Facciamo come l'altra volta, 15 ditte e 10 sono le nostre. A parlare a telefono sono il vice sindaco di Canistro Paolo Di Pietro e l'imprenditore Sergio Giancaterino. L'intercettazione telefonica è datata 2015, quando Di Pietro era vice sindaco, oggi invece siede tra i banchi del Consiglio come consigliere. Per gli investigatori sta tutto qui, una telefonata, una frase che dimostra il sistema illecito utilizzato per controllare gli appalti pubblici. L'ultima operazione della squadra mobile dell'Aquila, Masterlist, scopre le carte e porta ai domiciliari sette persone, tra amministratori pubblici, funzionari e imprenditori. Un sistema collaudato, così è stato definito dalla procura di Avezzano, un'indagine che in realtà si è mossa su due filoni separati. Uno è nato nella procura di Avezzano e si è sviluppato grazie alla denuncia di un imprenditore vittima di un sistema di tangenti da parte di alcuni politici della Marsica. L'altro è arrivato invece alla procura aquilana per competenza ed è nato da intercettazioni telefoniche ed ambientali. Le gare coinvolte nell'inchiesta, lo ricordiamo, sono ben otto. Il comune di Canistro coinvolto con quella relativa alla sistemazione e ampliamento del cimitero, risanamento e consolidamento del cimitero della frazione di Canistro Superiore e la sistemazione del municipio di Canistro. Per quanto riguarda invece Campotosto nell'Aquilano, gli appalti, come è noto, riguardano la manutenzione dell'area di campeggio Capparella, della struttura di vita centrovelico denominata Casa dei Pescatori, l'implementazione di servizi per la realizzazione della rete idrica nella stessa area, la chiusura della riscarica in località Rapperduso. Per quanto riguarda invece l'unione dei comuni delle coline Teatine, di cui è capofile il comune di Casa Canditella, arrestato il sindaco, lo ricordiamo, l'inchiesta ha indagato i lavori di riassetto territoriale dell'area a rischio idrogeologico della località Colle Grande e del comune di San Martino sulla Marrucina. Per quanto riguarda infine il consorzio acquedottistico marzicano, il CAM, la gara per la manutenzione del depuratore di capistrello sotto la lente di ingrandimento.